La scelta di un prodotto GPS di ultima generazione richiede davvero un'analisi attenta e precisa e forse una fatica superiore a quella che si potrebbe avere correndo le ripetute molto velocemente. Questo è il racconto del mio viaggio al Garmin Premium Dealer di Milano in via San Paolo. In descrizione vi metto tutti i dettagli e come al solito partiamo dall'inizio. Allora, principalmente clienti qui nel nostro store, c'è un 50% di clientela straniera, 50% di clientela diciamo locale, ovviamente sportivi, appassionati di sport, diversi settori in realtà. Abbiamo i clienti diciamo classici dal mondo running, mondo del ciclismo, a clienti anche diciamo che praticano sport un po' più particolari come le immersioni, i orologi che si specializzano nel mondo nautico, dell'aviazione e anche militare. Molti, meno in questo periodo però, si stanno avvicinando anche al mondo dell'escursionismo, all'alpinismo, anche con i nostri navigatori satellitari e principalmente appunto grande parte della nostra clientela sono spassionati di sport. I nostri clienti principalmente vogliono monitorare tutti i dati relativi ai loro movimenti, sia durante la giornata, quindi che può includere anche il mondo lavorativo, ma soprattutto ovviamente durante gli allenamenti. I nostri clienti vogliono capire se l'attività che stanno eseguendo lo stanno facendo in maniera corretta, e dove potrebbero diciamo migliorarsi. Anche il lato salute, durante sempre le giornate, ma anche durante l'attività sportiva, è un fattore molto importante per i nostri clienti. Abbiamo circa un 50% di persone già che conoscono il prodotto o che sono intenzionate ad acquistare un determinato prodotto, ma che ancora hanno dei dubbi. Quindi loro preferiscono venire qui, sicuramente provare i diversi prodotti e sciogliere i propri dubbi. Poi abbiamo comunque anche una vasta clientela che magari non conosce i nostri prodotti o vedendo su internet o tramite ambassadori, influencer, si approcciano per la prima volta ai nostri prodotti e quindi acquistano diversi nostri orologi o navigatori satellitari o prodotti per la bici. Allora, lato running in realtà è il prodotto più richiesto. Non solo la corsa in sé, ma anche ovviamente maratona, triathlon, ultrarun. Sono i profili, diciamo, gli sport maggiormente praticati dai nostri clienti. Forerunner è la nostra collezione di punta per il mondo della corsa, specifica, diciamo, a metriche aggiuntive per la corsa, non solo per il rilevamento dei dati in tempo reale, ma anche delle statistiche post-attività che tendono ad aiutare appunto l'atleta a migliorarsi. C'è chi inizia, diciamo, dalle prime versioni, che possono essere il Forerunner 55 o la nuovissima novità, il Forerunner 165, fino ad arrivare al nostro top di gamma, che rimane il Forerunner 965. Molto completo, compleso anche di mappe, quindi possibilità anche di visualizzare le mappe in tempo reale o anche di implementare un percorso e seguirlo durante, diciamo, un allenamento o una gara. Principalmente, diciamo, la maggior parte dei nostri clienti hanno, diciamo, o in passato o comunque già indossano i nostri prodotti, proprio perché negli ultimi anni ci siamo sviluppati molto, lato proprio software del dispositivo, quindi i nostri clienti si trovano molto sicuri nell'acquistare i nuovissimi prodotti. C'è sempre comunque una piccola, diciamo, percentuale di clientela che si approccia per la prima volta e grazie magari a amici, appunto anche ambassador e influencer, si approcciano per la prima volta e comunque scelgono il nostro prodotto perché rispetto magari ad altri brand, a livello di sensoristica si trovano, diciamo, con metriche molto più precise e accurate, da questo punto di vista. Sicuramente qui, avendo una vasta, diciamo, esposizione dei nostri prodotti, i nostri clienti possono provare proprio totalmente il feeling dell'orologio al polso o toccare per mano, diciamo, tutti i nostri prodotti, provarli, vedere anche le sue potenzialità, le sue funzionalità, cosa è in grado di fare il nostro orologio. Sicuramente la scelta dell'orologio è determinata da diversi fattori che possono essere, appunto, i profili sportivi richiesti dall'utente, quindi, diciamo, i propri sport che praticano, dall'attendibilità, quindi a livello anche di sensoristica, di monitoraggio e anche il fattore estetico, comunque, comporta la scelta del prodotto. Noi sicuramente qui cerchiamo di offrire un servizio premium, quindi quello di poter far provare principalmente l'orologio o comunque qualsiasi prodotto all'utente e soddisfare le sue richieste rispetto a, comunque, vedere, sì, le caratteristiche online, le specifiche, però non poterlo, appunto, provare personalmente. Come percentuale abbiamo un'altissima percentuale che sopra l'80% delle persone torna, appunto, o magari nel momento decide di effettuare l'acquisto proprio perché si trovano soddisfatti, diciamo, dei prodotti e, diciamo, dalle vaste scelte che ci sono in store. Molti nostri clienti, avendo già avuto in passato esperienze con i nostri prodotti, portano, appunto, i propri familiari, o propri amici a, diciamo, portarli ad acquistare un nostro prodotto proprio perché si trovano assolutamente soddisfatti. Tra l'altro sarebbe spettacolare se vi iscrivesse al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Per quanto riguarda il mondo del ciclismo, diciamo, Garmin è un brand molto riconosciuto, è quasi sempre presente tra i ciclisti e, diciamo, il nostro prodotto principale è l'Edge. L'Edge è un ciclocomputer che permette di monitorare, appunto, tutti i dati dell'uscita, appunto, in bici e di avere, appunto, un feedback post-attività sulle proprie prestazioni. Poi abbiamo altri accessori che sono i pedali per il potenziometro per chi volesse avere, diciamo, dei dati molto più precisi e accurati sulle proprie prestazioni, ma anche accessori di sicurezza. Ad esempio, noi abbiamo il Varia, l'RTL515, che è un prodotto che negli ultimi anni è uno dei nostri prodotti, diciamo, best-seller, proprio perché è un prodotto che aiuta il ciclista a essere sicuro in strada, perché il Varia è un radar con una luce posteriore, ma anche con un radar che riesce a rilevare le macchine in avvicinamento. Quindi, tramite un avviso acustico e visivo direttamente, appunto, sull'edge, perché è compatibile, il ciclista si sente, diciamo, più sicuro in strada. Quindi, questi principalmente sono i prodotti migliori per il mondo cycling. E poi, anche per quanto riguarda il mondo indoor, quindi indoor cycling, abbiamo i prodotti TAX, che sono rulli o la nostra Neo Smart Bike, che permettono di, diciamo, ai nostri utenti ciclisti di allenarsi anche, diciamo, all'interno delle proprie abitazioni. Il cinturino sicuramente riesce a dare anche un po' di fantasia al cliente. Il nostro cliente ha la possibilità di acquistare diversi materiali, quindi non è vincolato solo su un cinturino, magari, appunto, sportivo, come può essere quello in silicone, ma la possibilità di acquistare anche cinturini di diversi materiali, come nylon, pelle e anche in titanio. Quindi, sicuramente cinturini che possono essere utilizzati in qualsiasi ambiente, diciamo, in quotidiana o nel mondo lavorativo. E i clienti, anche, diciamo, insieme all'acquisto di un orologio, tendono ad acquistare anche un secondo cinturino per poterlo, appunto, utilizzare in altri momenti, ecco, non solo lato, diciamo, sportivo. Per quanto riguarda lifestyle, allora, abbiamo inizialmente degli orologi, diciamo, con impronta un po' più smartwatch, come Lily, Vivo Active e Venu 3, che sono prodotti, appunto, con impronta un po' più smartwatch, in particolare il Venu 3 è l'unico, diciamo, tra le diverse collezioni ad implementare microfono altoparlante. Quindi la possibilità, diciamo, nella quotidianità di poter comunicare direttamente dall'orologio. Se no, abbiamo comunque anche collezioni top di gamma come Phoenix e Apix che utilizzano materiali più ricercati rispetto ad altre collezioni e quindi sono orologi che possono essere utilizzati anche da questo punto di vista, diciamo, esteticamente in qualsiasi occasione. Per poi arrivare, diciamo, al nostro top di gamma, al nostro Luxury Sportwatch, che è la collezione Mark. Collezione Mark è un nostro orologio che utilizza principalmente materiali di alta orologeria. Abbiamo orologi che sono composti principalmente in titanio grado 5, addirittura anche in fibra di carbonio. Orologi che, diciamo, possono essere, anche da questo punto di vista, utilizzabili davvero in qualsiasi occasione. Un consiglio è sicuramente che il nostro brand negli ultimi anni, principalmente, appunto, per quanto riguarda il mondo degli sportwatch, degli orologi, offre una grandissima, innanzitutto, gamma, perché abbiamo diverse collezioni. Non differenzia assolutamente l'atleta professionista o amatoriale, ma comprende, appunto, tutti gli appassionati di attività classici come corsa, bici, quelli un po' più particolari, come, appunto, immersioni, mondo dell'aviazione, mondo nautico, principalmente anche poi con la possibilità di acquistare accessori secondari che possono essere cinturini, fasce cardio anche, quindi avere anche un monitoraggio dei dati della salute molto accurati. Questo sicuramente è un buonissimo brand per passare ad acquistarlo, ecco, quello sicuramente. In conclusione, è stata davvero un'avventura fantastica. Ho apprezzato il fatto che ci fossero tutti i dispositivi Garmin presenti sul mercato solo questo vale il passaggio al negozio che comunque è vicino in Duomo. Buono, in frattempo stay strong keep running e ci vediamo alla prossima.